Buongiorno a tutti, Pepper Udine qui con voi, benvenuti in questa nuova serie di video assaggi. A sto giro voglio ringraziare lo staff di Massa Pepper che mi ha fornito dei nuovi ibridi, sicuramente non riuscirò a testarli tutti in video, però cercherò di fare il possibile. Quindi a sto giro, tre Pepper. Allora, partiamo subito dal primo, chiaramente metterò in pausa tra uno e l'altro per lasciar passare la piccantezza e dare dei giudizi oggettivi. Questo è un Kraken per Trinidad Scorpion, Kraken è quel Pepper che ho provato anche a casa di Jack, dovrebbe essere un ibrido tra Bajalocchia Sam e Trinidad Scorpion, quindi poi è stato nuovamente incrociato con un Trinidad e quindi andiamo subito a testarlo. Un profumo dolcissimo, fruttato, mi ricorda quasi il ciupettino. L'interno non è extraplacentato, tengo giusto due semini, che mi sembra bello aromatico. Partiamo allora, 30 secondi e poi passo al secondo Pepper. Siamo partiti alla grande. Oggi comunque inizio da Pepper, diciamo, più leggeri, si vede anche dal colore. Notte belle fruttate di peperone dolce, anche. E comunque ricorda anche l'Abbanero Yellow, secondo me. Ci vediamo tra un attimo con le descrizioni finali. Ok ragazzi, passati 7 minuti, ora la piccantezza è praticamente passata. Veramente un Pepper buonissimo. Sapore, un po' ricordava il peperone giallo, quindi la varietà più dolce. E un po' c'era una nota quasi di melone. Buonissimo, veramente uno tra i pepper migliori che abbia mai mangiato. Gli do, se dovessi dargli un voto, gli darei un bel 9,5. Quasi la perfezione. Come piccantezza invece gli darei un 7. Un livello proprio lievemente sotto un bagiolocchia. Passiamo al secondo pepper, Bok per Jigsaw. E sarebbe But Orange Copenhagen per Fatali Jigsaw Gourmet, che è il mio pepper preferito come somma di caratteristiche. Agrumato ricorda il But Orange Copenhagen. Non è che vada matto per quel pepper, comunque vediamo. Tengo anche qua due semini. Ok, via. Sì, c'ha quelle note di scorza d'arancia del But Orange Copenhagen, leggermente amarognolo. Però forse il Jigsaw l'ha addolcito qualcosino. La piccantezza qua si avverte già un po' in gola. Partita molto più velocemente rispetto al pepper di prima. Ora stacco e ci vediamo con le conclusioni finali. Ragazzi, 10 minuti, non vi dico altro. Veramente potentissimo, sto Bok per Jigsaw. Non tanto in gola, ma sulla lingua devastante. Wow. Ho anche gli occhi lucidi. Piccantezza paragonabile a un Carolina. Almeno un 9 qua ci sta, se non leggermente di più. Devo dire che come sapore invece gli darei un 7. Secondo me il Jigsaw comunque ha migliorato le note del Bok, che come ho detto prima non mi piacciono particolarmente. E la piccantezza è stata anch'essa influenzata di molto dal Jigsaw. Veramente folgorante sulla lingua. Passiamo al terzo pepper, allora. L'ultimo di oggi. Questo è un War Tricks. È un pepper che è stato creato dall'americano Matthew Arthur. Dovrebbe essere un ibrido tra Seven Pod Jonah e un Uba Tuba Cambucci. Non ne sono sicuro, comunque. È quello che ho trovato online. Allora. Testerò questo. Uh, devo ancora riprendermi un pelo. L'aroma ricorda effettivamente il Seven Pod. Il Jonah non l'ho mai provato. Questo all'interno. Molti semi tra l'altro. E quindi, ultima fatica. Chiaramente non imitatemi assolutamente. Questa è una prova che è già tosta per me. Sì, ricorda... Forse è più lo Scorpion che il Seven Pod. È abbastanza erbaceo. Poco agrumato. Adesso stacco e ci vediamo tra un attimo. Qua per dirvi, sono passati 5 minuti e la piccantezza è già quasi svanita. Molto strano. Una permanenza totalmente diversa dal Vopper Jigsaw. Il sapore di questo War Trix si dà un 7,5. Un sapore abbastanza neutro. Ricordava un po' lo Scorpion, leggermente amarogno. Ma non c'erano grosse note fruttate. Come piccantezza darei un 8. Chiudo qua il video allora. Ciao a tutti. Ci vediamo con i prossimi video.